Vedo che secondo il suo costume Berlusconi allestisce prima dell'elezione un altro miracolo a Napoli utilizzando l'esercito ai suoi fini personali e politici come fece peraltro la russa facendo sgombrare la neve a Milano dall'esercito. Ora tutti sanno che il problema è dove mettere questi rifiuti. Da tre anni il governo ha preso in mano tutto, la regione e la provincia dovrebbero trovare e avrebbero dovuto trovare una soluzione per i rifiuti di Napoli e della provincia. Non è stato fatto e quindi non siamo davanti a una soluzione. È ora di smetterla con la propaganda e coi miracoli, è ora di affrontare seriamente una emergenza, una situazione che Napoli non merita.